Ciao a tutti balordi e balordoni, siamo qui su Ardart in tutti contro tutti e quest'oggi useremo la classe che mi avete scritto, quella per i fucili d'assalto composto da Thad, che è questo, e il giavelino, che non si sa perché ma è sempre in mezzo sto giavelin come aggiunta ho messo rinculo, quindi non sono neanche tanto avvantaggiato e come vedete non ho né mirini né niente, né silenziatore e quindi, e vabbè di ricompensa ho la mia solita ricompensa assalto con inflessibile invisibilità e sciacallo basta questa classe me l'ha scritta Simobus e vediamo ho fatto un po' di partite, questo qua però è live, non è come gli altri che sono registrate per questo avevo fatto un bellissimo live che culo c'è un tarello qua attacco aereo nemico in arrivo ma 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 l'ho visto eppure l'ho visto nooo ora l'ho becco che stolto ma nooo dai dai sto andando bene sono 400 punti ma noo cacchio rim Allora dai dai Oh avvi un amico individuato Venite a me Colpa la testa Oh madonna un tacco aereo Dai 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 salta fuori No madonna Oh avvi un amico individuato Copriamoci le spalle Wow Ma no da dove arrivo Torretto di merda Madonna Dai 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 Sono secondo No Cacchio Benissimo signori Sono arrivato secondo Meglio del previsto Cisione finale con torretta 18-10 Da Tommy Zucca E' tutto Scrivetemi per le prossime classi Bye 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 lordi I' volti Oh Bye bye Ciao Ciao